Cora Come giovane Renzo Arbore, nato nel giugno del 1937, è da sempre capace di anticipare il tempo, di piegarlo, di fondere passato e futuro in una sintesi che è melodia, intelligenza e divertimento. Come allegro, nella sua malinconia gentile, Arbore Renzo da Foggia, così proteso a cercare la poesia nelle esperienze, l'ironia nella tragedia, il lato meno ovvio dell'esistenza, che ha sempre affrontato con spirito avventuroso. In un pomeriggio di caldo feroce, in cui sudavano anche gli alberi, Renzo si è seduto sul divano di casa sua e ha cominciato a raccontare. I treni che da Foggia lo portavano da Riccioni in venti ore, i primi approcci con la musica, le invenzioni di programmi che hanno fatto la storia della radio e della televisione. Circondato dai suoi feticci, dagli oggetti disutili che ha collezionato nel corso degli anni, Arbore ci ha mostrato un'altra collezione, i suoi ricordi, volti, voci, intuizioni, scoperte, e alla fine della conversazione ha capito che non si è stancato di esplorare ancora. L'età è un inganno, l'anagrafe, la più volgare delle prigioni, per chi ha sempre cercato la propria identità, al di là delle carte di identità. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. L'effrenire delle cicale fa da cornice a questa conversazione con un gigante della cultura italiana, Renzo Arbore. Siamo a casa sua, che non è una semplice casa, che è riduttivo, è un museo, è il Guggenheim di Roma Nord. Ci sono memorabili e reliquie di ogni genere, essendo Renzo Arbore un collezionista compulsivo. L'estate entra dalle finestre e io vorrei partire proprio dall'estate. Renzo Arbore di Foggia, una delle città più calde d'Italia, in cui andavate a prendere il fiore del caldo, uscendo... Si chiamava il fiore del caldo, sì. Nelle pause post-prandiali, alla ricerca di un po' di fresco, camminavate... Oziando. Oziando. Che cos'era la noia per voi all'epoca? Era terribile. La noia era il sentimento primo della provincia. Noi ci incontravamo e guardavamo ripetutamente passeggiando per il corso, dalla stazione fino a un libraio che si chiamava Zobel. Poi tornavamo indietro, camminando ininterrottamente, salutandoci anche con un ghigno che non era più un sorriso, perché erano sempre le stesse persone che si incontravano. Con la passeggiata si cercava di sconfiggere la noia, di trovare delle novità, sentire il pettegolezzo cittadino del giorno e quelle cose così. Insomma, l'avvenimento che avevamo orecchiato alla televisione o alla radio, questa cosa così, ma la noia ci sovrastava. Non sapevamo che fare, non vedevamo l'ora di andare via. Adesso quella passeggiata, lo struscio, mi manca moltissimo, perché nella mia vita non c'è più stato lo struscio. Ho cercato ogni tanto di riviverlo andando a Napoli, a Milano, eccetera, però è stata sempre una cosa occasionale, non più un'abitudine giornaliera come era lo struscio nella mia città a Foggia. Ma ti chiedo, con l'avanzare dell'età, tu sei nato nel 1937 a giugno, segno del cancro, la noia è un lusso che non ti puoi più permettere? No, la noia adesso con l'avanzare dell'età diventa un nemico di nuovo, perché non lavorando più, avendo fatto 1600 concerti in giro per il mondo, avendo avuto l'orchestra stabile più longeva del mondo, non è una chiacchiera, io ho fatto 1600 concerti con un ritmo di 60-70 concerti all'anno, partendo dal 91 e ho finuto nel 21. Quindi facendo i calcoli sono circa 1600 concerti, girando tutto il mondo, andando dalla Russia sovietica, perché sono stati i primi a fare un concerto sulla Biazza Rossa quando c'era ancora Gorbachev, fino alla Russia di oggi nel 2015, poi Australia, tutti i paesi Sud America, Nord America, Inghilterra, Spagna, Parigi, ho fatto praticamente i concerti in tutto il mondo e in tutta Italia, perché naturalmente anche in paesi che non hanno niente a che fare con la canzone napoletana, barese, che ne so, Bordenone, eccetera, ho portato le canzoni napoletane in giro per il mondo. Però avendo lavorato tanto, adesso che non lavoro, devo dire che la verità sopraggiunge la noia e allora devo cercare di sconfiggerla occupandomi di altro. E di che cose? Beh, mi sto occupando di rinnovare con l'aiuto dei miei collaboratori, tra i quali Ugo Porcelli e Emiliano Portone, sto recuperando tutto il mio repertorio televisivo e anche radiofonico, attraverso collezionisti che mi hanno regalato le cassette di alto gradimento, quindi un repertorio che andava perso, che poi io ho dato, comunque ceduto, alla radio. Poi c'è il repertorio televisivo che è immenso perché sembra strano, però se posso parlare di me, io ho fatto non due, tre format come si pensa, cioè quelle della notte indietro tutta. Ho fatto 21 format, cominciando da Speciale per voi, 1969-70, in bianco e nero, quel programma dedicato ai giovani, primo programma dedicato ai giovani che erano liberi di parlare, passando per l'altra domenica, per Caro Totò ti voglio presentare, per un programma che si chiamava Telepatria International, per un processo a Sanremo con Lino Banfi e Michele Mirabella, insomma per tanti programmini come tagli, ritagli e frattagli con Luciano De Crescenzo, tutta questa roba, tutto questo materiale negli archivi RAI, nelle tere RAI lo sto restaurando e catalogando e poi facciamo dei programmi, faremo dei programmi per RAI Cultura di repertorio con Geggette L'Esforo, intitolato Appresso alla musica. Cosa stai preparando adesso? Ma tra le grandi tappe della mia vita si sono stati festeggiamenti per 60 anni di Radio RAI, nell'84 io ho fatto 5 puntate dove c'erano tutti, ancora vivi naturalmente, da Alberto Sordi a Monica Vitti, da Antonioni a Ruggero Orlando, per festeggiare i 60 anni della radio, adesso nel 24 ci sono i 100 anni di Radio RAI, ma così mi stanno chiedendo di essere in qualche maniera coinvolto, casomai come testimonial, adesso vedrò se è il caso, però certamente quella trammissione sui 60 anni della radio da tenere assolutamente in carta d'argento, perché non solo venivano a parlare di sé, ma facevano qualche cosa, ognuno veniva a fare un pezzo che aveva già eseguito alla radio, quindi c'era un documento di quello che Alberto Sordi veniva a fare i suoi primi sketch alla radio, Monica Vitti cantava una canzoncina che aveva cantato a gran varietà, insomma questa roba qui, del resto come ho fatto tutte le mie trammissioni, tutta roba da conservare, questi cari amici vicini e lontani è certamente una trammissione preziosa per le teghe della RAI, alle quali sono molto legato. Adesso naturalmente una sigla e un nome non spiega tanto, ma per spiegare, per raccontare davvero che cos'era la TV del 1969, qual è stato il segno eversivo che tu hai impresso nel mondo radio televisivo italiano, si potrebbe partire proprio dalla prima trasmissione, speciale per voi, il litigio tra Don Bacchi e il pubblico, Caterina Caselli che fugge quasi lacrime per le critiche ricevute, Claudio Villa che litiga con il pubblico, con il figlio di Fenderlo. Sì, quella roba lì. Tu creavi non semplicemente lo spazio per la discussione, ma la incendiavi, la accendevi, ti interessava il confronto, ti interessava la dialettica. Beh, erano anni in cui era facilissimo che si accendesse una cosa, erano gli anni della contestazione, di Piazza San Babila, di quella roba lì, quindi i ragazzi inevitabilmente contestavano il successo, spesso i personaggi di successo che venivano. Se non erano concilianti, se non erano umili, il successo veniva visto come una cosa un po' negativa. Per parlare male di una canzone si diceva è commerciale, adesso è il contrario, proprio il contrario, ma allora si diceva è commerciale, quindi si guardava con sospetto. Poi quando arrivava qualcuno nuovissimo come Lucio Battisti, eccetera, fortunatamente veniva approvato subito perché era nuovo e quindi non era già baciato dal successo. Tu sei stato il primo a farlo esordire Lucio Battisti e a farlo apparire, dicesti, si può dire che Battisti ha un certo talento, no? Sì, non dissi così solo perché io il talento di Battisti l'ho conosciuto in anteprima assoluta attraverso una mia amica che è stata la scopritrice vera di Lucio Battisti, si chiamava Christine Leroux, era una discografica che mi parlò di questo ragazzo che faceva queste canzoni particolari e che lei avrebbe presentato a Mogol. Questo ragazzo era uno che faceva il nightclub e suonava nei nightclub come chitarrista, però aveva questo talento di compositore e soprattutto di scopritore di un nuovo modo di scrivere canzoni, cosa che poi è successa. Vabbè a me, insomma, questa è una delle tante storie, dei tanti battesimi che ho ottenuto, è stato battezzato a speciale per voi anche Claudio Baglioni, tanti altri, tanti altri che poi hanno continuato una carriera straordinaria. Devo dire la verità che io c'ho anche un merito, quello di aver contribuito con buoni compagni a far cantare Battisti, perché la cosa che non si sa, che Mogol non dice, che Lucio non voleva cantare, voleva fare l'autore di canzoni, aveva già scritto delle canzoni per l'Erippo 84, per i Dick Dick eccetera, venne a Bandiera Gialla, che era il programma che facevamo alla radio con Gianni e noi dicevamo ma tu se vuoi far sentire le tue canzoni non puoi che cantarle tu e disse io veramente canto male, peggio di Giulio, Giulio Ramogol, che aveva una vociaccia terribile. Dice vabbè ma l'unica maniera e far sentire quelle canzoni tue, trovai una vecchia chitarra, una eco, una chitarra accia lì eccetera, lui si mise con sta chitarra e praticamente cantò per la prima volta a Bandiera Gialla e decise di fare anche il cantante oltre che l'autore di canzoni. Pensa tu. Beh devo dire che è una storia che somiglia molto a quella di Paolo Conte che insieme a Vito Pallavicini aveva scritto Azzurro, la coppia di Bella del Mondo e altre canzoni memorabili, Cripoli 69 per Patti Bravo e poi ad un certo punto esordì con quella voce improbabile. Sai come? Come? Venne a casa mia. Paolo Conte, vedi? Paolo Conte. Avevo una casa dove facevo musica eccetera eccetera e allora feci venire Paolo Conte e venne a sentirlo una discografica, Mimma Gasperi della RCA, che naturalmente lo scritturò immediatamente. Quindi cominciò una carriera di cantante, Paolo Conte straordinario. Tra l'altro anche la sua prima apparizione televisiva è stata in bianco e nero nel mio programma l'altra domenica in un concerto da Bologna. In un concerto da Bologna, la data era 77 credo, in un concerto da Bologna lui cantò Topolino Amaranto e poi una canzone napoletana in mio omaggio, la canzone napoletana di cui non mi ricordo il nome, in napoletano. Comunque nella Topolino Amaranto c'è tutta l'epopea di un provinciale come Paolo Conte, nata da Asti, bionda non guardata dal finestrino che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, sei case su dieci sono andate giù. In quella canzone in cui si osserva l'Italia ancora demolita dalle bombe, c'è il racconto di Paolo Conte che ha parlato spesso della provincia. Che cos'è la provincia per te? Cos'è stato nascere in provincia? Guccini dice la grazia è il tedio a morte del vivere in provincia. Guarda, la provincia ha quella cosa negativa che io ti ho detto, quella noia infinita eccetera, però è una grande molla perché hai tempo per imparare, per distruggere la noia non ti resta che prendere uno strumento in mano e cercare di suonarlo, anche senza maestro e così è successo a me con il clarinetto. Poi hai tempo di leggere e di fare conversazioni disutili che sono utilissime invece, ma la canzone disutile che poi io ho celebrato in quelle della notte, cioè meglio il mare o la montagna, quella roba lì, è nata nottetempo sempre per sconfiggere quella cosa e quindi aguzzavi l'ingegno per trovare perché era meglio il mare, anche se si suda, però il mare si asciuga perché ti bagni, di fare, capito? Ecco, mentre le montagne no, ecco, erano conversazioni che poi io ho ripreso sempre e poi anche quelle ho frequentato, seppure quello spirito goliardico che viveva ancora in provincia perché la goliardia è stata rigettata come una cosa tremida, oggi dire goliardico di una barzelletta, di una cosa, è una condanna antipatica, mentre non è così, la goliardia sana, la goliardia vera, quella del Dell'Ugi, dell'Unione Goliardica Italiana, quella dove c'era Eugenio Scalfori, Bettino Carsi, Pannella e altri, Luciano del Crescenzo e tanti altri, era una goliardia dove si posava l'alto e il basso, ma faceva ridere il basso perché lo si diceva dall'alto, cioè questo è un bagaglio che io mi porto dietro, il bagaglio goliardico, e mi dispiace che non è stata fatta giustizia sulla goliardia vera, ci sarebbe da ricordare la goliardia non volgare o comunque molto ironica, devo dire che poi qualcuno oggi ancora, quando si parla di supercazzolo, si celebra un film altamente goliardico come Amici miei di Monicelli e quindi quella roba lì è sopravvissuta moltissimo e io la riconosco anche nel giornalismo attuale quando ci sono battute goliardiche senza sapere, fatti da autori, da nuovi giornalisti che non hanno vissuto quell'epopea, però la battuta è goliardica. Era un altro mondo, un mondo più gentile in cui appunto la conversazione disutile come dici tu aiutava a non avere per forza un obiettivo, oggi quando le persone si parlano hanno sempre un fine e non averlo aiuta ad avere una prospettiva della vita più gentile. Ma dalla provincia bisogna andare via secondo te? Eh sì, bisogna andare via se vuoi realizzarti perché poi se vuoi fare l'artista purtroppo le tappe sono poche. Sono Roma, Milano, perfino Napoli a molte difficoltà perché non c'è la televisione, c'è ma non c'è, ma insomma adesso si arriva da tutte le parti però devi andare nei posti dove c'è il cinema o la televisione. È un'incubazione straordinaria la provincia per poi però realizzarti laddove ci sono i sistemi che ti possono aiutare. Tuo padre e tua madre consideravano Roma troppo lasciva, troppo tentatrice, troppo pericolosa e quindi scelsero Napoli per assonanza perché c'erano stati, era una città che conoscevano meglio e tu arrivi a Napoli e tuo padre. No ma ti dico la verità, allora scelsero Napoli perché c'era una tradizione con Napoli, la mia è una famiglia molto antica, quella paterna, i miei nonni dopo il raccolto che era del grano, le cose di provincia eccetera eccetera perché erano proprietari terrieri svernavano a Napoli andando con i cavalli, con la carrozza eccetera perché a Napoli c'era il clima mite dal mare eccetera eccetera quindi c'è sempre stato un rapporto con Napoli mio padre è laureato in chirurgia e odontoiatria a Napoli laureato a Napoli aveva le sue amicizie a Napoli quindi c'era un rapporto con Napoli molto interno mio fratello era nato a Napoli e quindi c'era un rapporto con Napoli molto forte e con la cultura napoletana cioè a casa mia la domenica si mangiava il ragù capito quindi il rapporto era antico con la città e con la cultura napoletana ecco le abitudini napoletane però pur mantenendo molto sì certo Roma era vista come una città insomma dove c'era la dolce vita in quel periodo quindi c'erano gli americani i primi paparazzi le prime cose queste erano le notizie che arrivavano da Roma per la verità mio fratello si è riscritto alla medicina a Roma però poi dopo subito dirottato di nuovo a Napoli e si è allogato al gru in giurisprudenza prima di tornare a Napoli che è una città fondamentale per far scaturire il tuo amore verso la musica verso i suoni verso lo spettacolo volevo tornare per un secondo all'epopea del viaggio perché mi sono immaginato mentre tu li raccontavi in questo modo così i castico questa carovana che parte dalle campagne del foggiano con le fascine di grano messe da parte perché tu fai parte di una generazione in cui quando andavate ed eravate praticamente gli unici a far la foggia in vacanza a Riccione partivate con un accelerato alle 8 di sera e arrivavate alle 14 del giorno dopo si partiva perché solo l'accelerato fermava a Riccione il direttissimo fermava a Rimini poi da Rimini dovevi prendere tutti i bauli con i quali praticamente mezza casa si trasferiva da Foggia a Riccione e poi portarli a Riccione quindi era come che era meglio sacrificarsi e partire alle 8 di sera con le valigette noi bambini con i fumetti e le caramelle per ingannare il tempo e arrivare a Riccione alle 4 del pomeriggio poi allora lì scaricare i bauli andare verso la casa alla Bissinia un quartiere di Riccione rimasto nel mio cuore dove mio padre si preoccupava di impiantare tutto per fare una bella pilleggiatura quindi si mettevano i pali per fare la daltalena si portavano i piatti che da allora non c'erano piatti di plastica i piatti che arrivavano da Foggia le cose eccetera si impiantava una casa che durava tre mesi i mesi della villeggiatura senti tuo papà è nato diciamo è cresciuto e è vissuto nel ventennio il tuo gioco preferito da bambino era un balillino io ero figlio della lupa tu eri figlio della lupa ma avevi un piccolo gioco una specie di cariglione un balillino ancora ricordi di tuo padre che impreca perché mettersi gli stivali per le adunate era un'impresa titanica e togliersi era altrettanto difficile quella che era la cosa insomma stoduce stoduce però sta cosa del sabato per fare la sfilata il sabato fascista il sabato fascista e naturalmente mia mamma annuiva però in silenzio perché non è che si poteva parlare male tanto del luce anche perché sotto sotto papà aderiva a quella cosa lì senza essere stato né gerarca né altro però più o meno aveva ricevuto addirittura il luce al tubercolosario perché papà è stato per un periodo tenente medico al tubercolosario che ha ricevuto il luce perché visitava dei malati e quindi insomma l'aveva visto aveva accompagnato eccetera fu un trauma la caduta del regime per la chiesa tua noi no noi stavamo in Puglia quindi dopo tutta quella cosa io non l'ho vissuta io posso ricordarmi che ho visto il duce a Riccione perché ero talmente piccolo che mio padre andò lì dove c'è la casa alla fine i viali ceccarini sulla piazzale eccetera eccetera c'era quest'uomo vestito di bianco e capì che doveva essere un uomo molto importante perché mio padre diceva guarda guarda il duce quasi una scena di amicisiana è sempre una scena felliniana ma è proprio così l'immagine è rimasta questa immagine di folla e l'immagine di quest'uomo vestito di bianco nient'altro perché poi dopo la guerra le cose eccetera lì c'è tutta un'altra storia tu non sei mai stato comunista ma sicuramente non sei mai stato di destra e sempre pro americano e al tempo stesso molto affascinato dai suoni che venivano dall'America che incontri per la prima volta a Napoli come una fascinazione un'epifania no io li avevo già conosciuti io mi ha salvato il mio filo americanismo perché appunto ho cercato disperatamente di avere una fede politica compravo tutti i giornali della discussione il popolo la voce la giustizia i giornali di partito capito mondo operaio e avevo una una fissazione di cotocalchi ma soprattutto di quotidiani di partito avevo pochi soldi in tasca ma leggevo perché cercavo disperatamente di trovare una fede come avevo visto i miei amici comunisti qualcuno monarchici oppure altre cose eccetera invece non l'ho mai trovata perché avevo con me l'immagine degli americani che entrano a Chieti e poi degli americani a Foggia suonavano di fronte casa mia nel circolo ufficiale e naturalmente ci offrivano caramelle e c'erano in gum e quindi l'americano per me era capito per noi bambini gli americani sono stati questi amici Joe e i Joe poi c'è altri ci hanno scritto pure delle canzoni anni dopo perché avendo visto i tedeschi perché l'immagine del tedesco in divisa pieno di armi e poi avendo visto dopo gli americani la libertà il sorriso la musica sulla macchina sulla jeep la musica sulla jeep ma quando mai uno poteva pensare che si potesse sentire della musica in macchina e Napoli ho lavorato con gli americani in un locale che si chiamava USO quindi lì ho apprezzato ancora di più il fatto che c'era un rispetto perfino il razzismo di cui si parlava come un grandissimo problema americano era mitigato dal fatto che si vedevano bianchi e neri insieme arrivare in questo locale eccetera a ballare eppure tu li avevi visti gli americani entrare a Chieti perché Foggia era stata bombardata più volte voi eravate stati sfollati a Chieti quindi all'inizio poteva essere sì però quando l'epoca dei bombardamenti io non sapevo che erano gli americani erano i bombardamenti la guerra erano le fortezze volanti certamente il ricordo del rifugio che poi era sotto casa mia nelle cantine diciamo di Palazzo Arbore a Foggia quindi era adibito anche a ricevere estranei le preghiere delle mamme delle nonne tutto quel rito della sirena e la gente in pigiama eccetera questi sono ricordi indimenticabili della mia infanzia perché naturalmente il rumore delle preghiere che aumentava via via che aumentava il rumore delle fortezze volanti che si avvicinavano e bombardavano la stazione ferrovia oppure altri obiettivi lì capito sono cose indimenticabili però da bambino io venivo usato per distrarre e mi facevano cantare una canzoncina che mi aveva insegnato una mia bambinaia che si chiamava la pupa alla finestra la bambinaia era friulana naturalmente come tutte le bambinaie eccetera la pupa alla finestra l'è tutta insipriata la disse che l'è malata per non mangiare polenta se vuole se vuole se vuole avere pazienza lasciare la marità questa era la canzone la prima canzone della mia vita non era napoletana era friulana che cosa significa per te vivere con tutti questi ricordi averli incuriniti di tu in realtà hai una memoria di ferro ti ricordi le date ti ricordi i nomi ti ricordi le immagini è una condanna o una risorsa tutta questa memoria no no è una risorsa è una risorsa devo dire che in questa stagione della vita purtroppo riaffiorano questi ricordi così antichi quelli recenti si appannano un po' ma quelli antichi riaffiorano tutti fortissimi le canzoncine le cose questo riassunto dell'adolescenza dell'infanzia viene sempre fuori insomma e riguardandolo mentre riaffiora senti che è stata un'infanzia o un'adolescenza felice? ma non so se è stata felice io avevo pochissimi giocattoli pur essendo di famiglia discretamente agiata pochissimi giocattoli non avevo soldi in tasca quando all'adolescenza perché mio padre diceva che i soldi in tasca ce li avevano gli sfaccendati l'infanzia proprio era anche la fame perché noi sfollati noi ragazzi noi bambini non mangiavamo mangiavamo pochissimo era il pane con un po' di zucchero sopra o con l'olio lo zucchero insomma la fame l'abbiamo sofferta da sfollati la frase ripetuta era mamma ho fame mamma ho fame mamma ho fame poi piano piano l'infanzia è diventata un'adolescenza un po' più felice perché naturalmente finita la guerra siamo stati liberati prima noi in Puglia sentivamo Radio Bari che era una radio che trasmetteva perfino le favole per i bambini un signore che poi ho conosciuto che raccontava le fiabe da Radio Bari e quindi piano piano insomma mio padre ha ripreso a lavorare e quindi abbiamo cominciato di nuovo a mangiare non avevamo più fame noi ragazzini e quindi il primo grammofono le canzoncine i 78 giri devo citare un cantante e artista che ha segnato molto la mia adolescenza si chiamava commentatore Rodolfo De Angelis era un napoletano trappiantato a Roma famoso per una canzone sola adesso che si chiama Ma cos'è questa crisi? però lui ha scritto 400 canzoni ha fondato la discoteca romana nazionale la discoteca era il cantante del futurismo insieme a Marinetti balla la discoteca in via Caetani in Roma in via Caetani certo l'ha fondata Rodolfo De Angelis che sul disco c'era scritto commendatore commendatore Rodolfo De Angelis io c'ero di là i 78 g e lui scriveva delle canzoni fregandosene delle rime inventandosi rime anche con le mozze la canzone perché l'italiano non si prestava tanto a dire le cose che diceva è un personaggio molto singolare umorista diciamo e futurista quindi con delle canzoni qualcuno spero che lo riscopra me l'ho detto soprattutto a Elio di cercare tra le cose di Rodolfo De Angelis perché ci sono delle canzoni straordinarie dove lui oltretutto fa anche l'arrangiamento vocale accanto alla canzone capito lui fa anche l'arrangiamento oh come sono occupato 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 capito ecco questo è sempre lo spirito del commendatore Rodolfo De Angelis scusami Renzo tuo padre torniamo a Napoli ti disse tu eri stato già bocciato al liceo quindi grande trauma terzo liceo terzo liceo una volta che vengono a Napoli tu gli dici voglio fare qualcosa che sia inerente alla musica allo spettacolo e lui ti dice un anno non un giorno di più si dopo lo laurea mi dice guarda cerchiamo di tu vuoi occuparti di musica vediamo un po' eccetera eccetera però le alternative sono fare l'avvocato a Foggia o fare l'avvocato a Napoli trovare un posto alla flotta Lauro se Achille Lauro commediatore anche lui come De Angelis però attraverso qualche segnalazione a Bernabéi che aveva una nuora Coggiana attraverso insomma io riesco a avere degli appuntamenti in Rai devo dire la verità che l'ultima volta che mio padre mi ha detto vada va a Roma poi basta perché abbiamo tentato non ci siamo riusciti quindi vediamo di fare qualche altra cosa l'ultima volta ho una signorina via del Babuino 9 dove adesso c'è l'albergo lì era la Rai questa signorina mi dice guardi lei ha fatto varie domande oggi ne scade una per maestro programmatore di musica leggera e dico che cos'è mi pare quelli che scelgono i dischi alla radio io dico la faccio subito vado a casa di un mio amico Armando Romeo scrivo questa domanda e invece arrivano da settembre dei carabinieri in portineria a casa mia a Foggia per sapere chi era questo figlio del dottor Arbore e Arbore dalla portiera che gli rispondono bravo guaglione questa era l'informativa dei carabinieri mi stupiva perché non avevo ancora ricevuto nessun messaggio finalmente arriva un telegramma Rai di Ro ed era Rai di Roma Rai di Ro per convocato a fare un esame per maestro programmatore al Foro Italico e incontro vari personaggi tra i quali Gian Domenico Boncompagni di Arezzo quindi con Gian Domenico Boncompagni nasce una piccola amicizia perché lui è uno molto scetato molto sveglio al contrario di me che sono molto timido e embranato e quando dopo pochi mesi quando io comincio a fare il lavoro di maestro programmatore Boncompagni mi incontro e dice che ne diresti di fare una trasmissione sulla musica nuova che sta arrivando dall'Inghilterra cioè Beatles proprio sono ma dico io subito e facciamola subito e allora con la complicità di Maurizio Riganti che è mio grande amico ancora e di Luciano Rispoli che era allora un dirigente della radio poi l'abbiamo conosciuto come presentatore si inventa questa trasmissione che fu chiamata per scherno bandiera gialla perché si diceva così sappiamo che questa musicaccia che era stata anche bocciata dai vecchi grandi maestri di musica delle cose come musica un po' stonata eccetera un po' strana veniva insomma condannata a essere una musica isolata per giovani scapestrati e noi invece ci inventiamo proprio il meccanismo di bandiera gialla che porta al successo i dischi e che rivoluziona la radio diciamo la verità ma è un beatles il tipo 84 Otis Redding non gli stonzi completamente ma non è solo quello noi ci inventammo cambiamo innanzitutto perché era improvvisata non era scritta facevamo una scaletta finta poi ci inventammo la cosa beat rubandola alla beat generation di Kerouac di Ferlinghetti non sapevamo come chiamare questa musica nuova la chiamammo perché c'era lo yeah yeah a noi non ci piaceva allora la chiamamo beat e naturalmente la cosa dilagò soprattutto la moda beat le cose beat arrivano perfino in Francia la beat music era inventata da noi rubata alla beat generation quella seria e poi soprattutto avevamo criteri di mettere gli stessi dischi dopo una settimana cosa che era vietata prima in radio e i dischi lo stesso disco doveva andare in onda dopo 15 giorni perché non ci fossero beche perché non ci fossero mazzette perché non ci fossero insomma c'erano tutti dei controlli che noi abbiamo scardinato con la complicità di alcuni dirigenti della radio di allora in bandiera gialla vi rivolgevate ai giovanissimi attenzione attenzione questo programma è riservato ai giovanissimi attenzione ai diciottenni ed è in bandiera gialla che fate esordire Lucio Battisti ed è una trasmissione diciamo fondante come raccontato tu poi arriva Alto Gradimento sì che è una trasmissione che riascoltata oggi a quasi mezzo secolo di distanza fa emergere tutto anche il lavoro sull'invenzione sul linguaggio sull'assurdo sembrano a volte pièce sembra una pièce ionesco ci scoprimmo questa vena di umoristi con Giorgio Bracardi e con Mario Marenco e con Franco Bracardi scoprimmo che oltre che parlare di musica di cose eccetera dicevamo pure delle battute eravamo pure umoristi e ispirandoci così molto vagamente a dei film americani come Elsa Poppin oppure a Mad che è una rivista americana con umorismo un po' lunare un po' assurdo ci inventammo dei prototipi dei personaggi dei modi di dire delle cose eccetera assolutamente nuovi nuovissimi per la prima volta non era satira del contingente cosa che non abbiamo mai fatto non erano imitazioni come facevano tutti per far ridere di personaggi noi facevamo personaggi di fantasia destinati a sopravvivere anche alla fine della delle trasmissioni infatti se oggi uno risentra l'alto gradimento e quei personaggi non sono assolutamente invecchiati perché non c'è attualità non parliamo di attualità non ci riferiamo a eventi dell'epoca erano personaggi capito il colonnello Buttiglione era un personaggio di fantasia un militare scombiccherato assolutamente fantastico ma questo tu che hai saputo leggere con attenzione in passato e hai fatto delle cose che erano molto nel futuro quando nessuno le faceva lo hai fatto perché in fondo l'attualità e i presenti ti interessavano poco no no io il mio modello era Totò Walter Chiari quelli là cioè cose che dovevano rimanere ho sempre cercato di fare ma questo non soltanto alla radio poi alla televisione poi alla musica io ho sempre cercato di fare cose che rimangono che potessero valere anche nel 2050 cioè non invecchiare è strano che ancora nessuno lo rilevi con certezza ma tutte le invenzioni mie le cose c'è le canzoni gli arrangiamenti le cose sono fatte in funzione del fatto che non debbono passare di moda per dire con l'orchestra italiana l'arrangiamento fatto vent'anni fa di Mala Femmina sopravvive e sopravviverà sempre perché non mi sono ispirato alla musica di che andava allora quando ho fatto l'arrangiamento mi sono ispirato alla musica di sempre tu lo dicevi appunto i tuoi collaboratori facciamo cose che devono durare fino al 2050 ma hai detto che non ci credevi fino in fondo che sarebbero durate fino al 2050 invece ci siamo beh beh invece sì punto adesso sto rimettendo in ordine tutto quel materiale abbiamo visto che tutte le stupidaggini che abbiamo detto ma anche con Lino Banfi abbiamo fatto sketch stupidi ma eterni non legati all'attualità non abbiamo quasi mai tranne nel periodo di alto credimento in cui abbiamo nominato i politici che è stato un episodio di tutto alto credimento di tutti gli altri personaggi l'astronauta spagnolo erano assolutamente di fantasia con Mario Marenco che aveva fatto la fame con Gian Domenico Boncompagni che a sua volta appunto alto provinciale che era nato in Svezia perché a suo dire ad Arezzo non esistevano neanche i semafori come da frase storica ti sei soprattutto divertito no? moltissimo moltissimo coltivando una cosa sacra che era sacra a casa tua come il sorriso cioè l'amicizia certo cos'è stata l'amicizia? la stima anche la stima anche sono due cose diverse Marenco era un intellettorale finissimo finissimo era un bravissimo architetto un bravissimo designer era solo scombiato di testa un misantroco un po' no no non aveva senso pratico capito quindi era bravissimo a realizzare le cose però andava aiutato nel senso anche io dicevo il tiraggio di Marenco che facciamo noi io e Boncompagni il tiraggio di Marenco scippavamo delle cose che facevano molto ridere capito? che cos'era il tiraggio di Marenco? era il tiraggio era scippargli delle cose buffe dandogli la palla l'esca quindi lui buttava fuori queste cose che mi facevano molto ridere capito? però era guidato da noi insomma non avevamo il compito solo di dire sì no eccetera c'era il compito quello che poi ho usato anche in televisione nelle mie trasmissioni quelle della notte indietro tutta eccetera era dare la palla ai cromici come un istruttore di tennis quelle della notte parte da 800.000 spettatori e finisce per arrivare al 51% di share per un programma di seconda serata con l'altra domenica tu avevi per la prima volta portato le ragazze finalmente non più vallette ragazze parlanti ragazze parlanti con indietro tutta hai rinverdito un genere totalmente surreale e quasi incredibile guardando la televisione di oggi quasi incredibile che si potesse avere tanta libertà e tanta eresia diciamo in una sola trasmissione ti sei inventato moltissime cose ora ti chiedo hai avuto secondo te più o meno di quanto non avresti meritato? ho avuto più ho avuto parecchio ho avuto parecchio ho avuto grande considerazione anche da parte della critica ho fatto dei programmi di risonanza dico io successo di risonanza perché sono piaciuto dagli intellettuali a quelli che hanno visto e hanno capito l'iconia eccetera eccetera e quindi i numeri mi hanno affascinato ma non tanto io sono figlio dell'indice di gradimento dell'ascolto e quindi il gradimento è quello importante puoi avere anche un pubblico minoritario però che ti ama moltissimo come quelli che adesso sono sulla rete sul mio canale renzoarborichannel.tv stamattina se leggi quello che è arrivato stamattina sto facendo una replica di un programma che si chiama 50 sorrisi da Napoli e oggi abbiamo messo pazzaglia in un pezzettino dal film Così parlò Bella Vista subito sale ascolto 50.000 poi vanno avanti i commenti sono straordinari capito di rimpianti quindi io continuo a fare a rivolgermi a un pubblico che cerca io lo chiamo scetato capito sveglio che cerca qualche cosa di diverso che vuole sorridere con delle cose che non siano la parolaccia la cosa eccetera ma l'invenzione e quindi anche con la rete con la mia rete faccio delle cose non sempre le invenzioni sono state gradite no in FFSS tu l'incipit del film Federico Fellini che vuole un copione dalla finestra mentre fa pipì tu chiami il maestro con diciamo senso di con un empito di eccitazione glielo fai vedere e lui si lui ci rimane male perché e lui ci rimane male perché io nella mia ingenuità con Luciano De Crescenzo nella nostra ingenuità avevamo previsto che questo copione di Fellini cadeva da una finestra dove lui stava lavorando e quindi lo trovavamo noi mentre lui cercava di andare disperatamente al bagno perché doveva fare pipì allora evidentemente noi non pensammo alla prostata però qualcuno mi disse non posso dire chi perché era un amico di Fellini che mi disse che appunto Fellini aveva l'età nella quale c'erano dei fastidi di questo tipo e quindi io lo vedi in palidire quando vedi la scena della Giulietta Giulietta che apri perché devo scorrere al bagno quindi ci rimane male poi abbiamo fatto pace però c'è stato un grandissimo dolore perché noi avevamo un'ammirazione avevamo abbiamo ammirazione sconfinata per Fellini per i suoi film per le cose e quindi un film dedicato a lui seppure così scombinato tutto da rivedere oggi perché poi il film ha avuto un successo tra appassionati e anche critici molto particolare però certamente il fatto che non sia piaciuto mentre era piaciuto molto a Federico il primo film il Papocchio l'aveva visto due volte che è un film che non è mai passato in televisione no no l'hanno passato silenziosamente non è passato come si deve anche se il film è stato assolto dall'Opus Dei eccetera eccetera diciamo dalle accuse che piovono all'epoca ma Fellini se lo vide tutto o si alzò dopo la prima scena? no no se lo vide tutto e cosa ti disse esattamente? ma quale tu dici FFSS no no disse questa volta non ci siamo ah questa volta non ci siamo perché è la prima volta e Giulietta cercò di addolcire la cosa d'altra parte come dice Paolo Sorrentino in youth come dicono anzi Michael Cain e Harvey Keitel mentre passeggiano per questo albergo di montagna gli anziani dicono poi alla fine si finisce per parlare tra anziani solo di prostata dice Cain a Keitel ed effettivamente è una grande verità sì vabbè insomma certamente poi sì certo non era perfida la vostra intenzione no non era assolutamente ingenua proprio ingenua non pensammo assolutamente al fatto che potesse avere qualche problema di età ma insomma Federico ci teneva moltissimo che la sua controfigura avesse i capelli quindi anche questo gli disturbava un po' perché guarda la controfigura ha i capelli che hai tu adesso quindi non ecco lui voleva voleva avere i capelli di quando era giovane guarda grande personaggio grande grande personaggio grandissimo artista con delle cose bambinesche con delle cose infantili delle passioni infantili tanto è vero che si chiamava Renzino Marenchino tutto così ha sempre avuto un bambino un bambino sotto sotto un bambino d'altra parte scusami il grande amore della tua vita ti chiamava diceva che tu eri stato l'unico Peter Pan che veramente aveva conosciuto in qualche modo anche Fellini lo è stato eterno Peter Pan che con le sue visioni qual è il film più bello di Fellini secondo te uno solo Amarcord Amarcord beh certamente per chi ha vissuto quell'epoca il film straordinario hai avuto anche tu maestri che ti bacchettavano sulle mani come quello di Amarcord qualche lite in famiglia col fratello maggiore quella roba lì poi sai Fellini un po' Rimini Riccione io avevo questa storia con Riccione con la Romagna insomma gradisca tutta questa roba qua che senso ha il passare dell'età ci sono più vantaggi o più dolori per la vecchiaia no 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 ci sono degli svantaggi ci sono passare dell'età certo ti arricchisci di cose eccetera però il fatto di non sapere di non avere dei problemi con la nuova tecnologia adesso con le preoccupazioni dell'intelligenza artificiale la convivenza con il cellulare la cosa eccetera crea molti problemi crea molti problemi a noi che imparavamo i versi delle canzoni andandole a copiare all'USIS United States Information Service adesso con un click lo troviamo sul telefonino però devi imparare a trovare il click lo usare e non c'è più il mistero comunque ripeto una delle prime cose per quanto mi riguarda è l'handicap della tecnologia anche se riesco a sopravvivere insomma avere il mio canale la cosa eccetera ma tu sei modernissimo Renzo come d'altra parte era modernissimo Gianni Boncompagni che cercò di convincermi dell'opportunità di prendere una casa in un centro commerciale all'ultimo piano perché si poteva scendere a avere il negozio di una famosa marca di telefonini no ma Gianni era molto avante con la tecnologia lui era proprio la sua passione era la sua passione la mia no era più qual è stata la tua la tua grande passione qual è stata l'ironia il divertimento beh la mia grande passione è stata la musica la musica tutta perché contrariamente agli appassionati di musica che hanno un genere il genere della loro adolescenza il rock e poi vai avanti con il rock eccetera io sono passato per tutta la musica la canzone popolare la canzonetta da bambino poi il jazz che ho conosciuto attraverso gli americani che suonavano nel palazzo di fronte a casa mia a Foggia e poi a Napoli il jazz la canzone brasiliana la canzone messicana la canzone napolitana e in genere le canzoni popolari di tutto il mondo ancora mi affascinano capo verde la mia discoteca è piena di musica popolare di tutto il mondo naturalmente fa difetto un po' la musica accademica però non posso sentire tutto però voglio dire la musica è stata la mia grande passione come dice quel libro la mia vita nella jam session in realtà a me è piaciuta molto la musica istintiva quella che nasce dal cuore la musica ispirata non una musica molto pensata ma quella istintiva che viene dal cuore perciò mi ha appassionato moltissimo la canzone napolitana la canzone napolitana è un patrimonio straordinario che nasce solo dall'ispirazione del momento il ritornello le cose nascono capito non da musicisti da respiratori cos'è che ti deludi negli altri Renzo cos'è che ti lascia amareggiato cos'è che con questo carattere diciamo aperto e abbracciante invece proprio non ti va giù non ti è andato giù in questi decenni con chi ti sei trovato a disagio non ti chiedo di farmi nomi ma quali sono le peculiarità che ti disturbano ma chi usa i mezzi espedienti per avere successo mio padre quando doveva parlare male di uno che non gli piaceva diceva quello vive di espedienti e allora ci sono molti che per avere successo usano degli espedienti la volgarità la paraculaggine non c'è un termine che sostituisce la paraculaggine purtroppo non c'è in italiano capito quella roba lì che io sento l'odore eccetera eccetera quella è la cosa che mi dà più fastidio tua madre ti insegnava molti proverbi e si raccomandava sempre Renzo saluta Renzo di buongiorno Renzo si dice grazie Renzo si fa un sorriso quando si cuota tuo padre dice questa frase straordinaria che prima è passata sotto silenzio ma che voglio ricordare perché sembra sembra scritta da un grande narratore italiano i soldi in tasca li hanno solo gli sfaccendati come si pone la tua famiglia di fronte al fatto che tu diventi un elemento che darai e che da lì in poi farai del cazzeggio intelligente della sperimentazione la tua bandiera non gialla ma di ogni colore no no fu subito approvata fu subito approvata l'incredulità di mio padre e il compiacimento di mia madre perché c'erano le signore di Foggia che si complimentavano con mia madre ho visto Renzo sempre sorridente perché mia madre mi ha insegnato il sorriso il dibattito che si faceva a pranzo era mio padre che diceva la prima cosa nella vita è la salute perché mi dico e mamma diceva guardandolo di sottecchi mio padre diceva no la prima cosa è l'educazione e quindi mio padre insisteva per farla arrabbiare ma no guarda che è la salute no è l'educazione quindi questo fatto che è rimasta questa storia a noi quattro figli l'educazione che è importante quanto la salute e quindi devo dire la verità poi l'educazione ha pagato nella mia vita perché insomma fortunatamente mi riconoscono di essere educato anche quel po' che ho fatto di Rivoluzione Gentile come dice il titolo di una tesi di laurea che poi è diventata un libro l'ho fatta educatamente diciamo alla fine qualcuno dice che tu sei sempre stato attento a non litigare con gli altri ti chiedo se è vero e da un altro punto di vista se lo hai fatto perché litigare è la più grande fatica che esiste provare rancore essere opposto a qualcun altro sì quella è una grande fatica provare rancore non è nella mia cioè io credo nel perdono anche ho avuto delle delusioni da gente che ho aiutato però poi le ho ignorate non mi piace il gossip non mi piace il pettegolezzo perché l'ho vissuto nella mia città e quindi avevo giurato che non sarei rimasto prigioniero del pettegolezzo sai in provincia il pettegolezzo era proprio la giornata insomma erano così queste cose di provincia arrivi a Roma e la prima fidanzata è Gabriella Ferri ma quella è una cosa incredibile quella è una cosa incredibile perché la fatica che avevo fatto a Napoli per trovare delle fanciulle a Napoli c'era ancora l'amore diciamo la verità perlomeno dove vivevo io cioè nel quartiere elegante di Via dei Mille di Piazza Medeo ti dovevi fidanzare in casa l'amore e fare un po' di sentimento la luna le stelle le canzoni parlavano di quello e c'erano belle canzoni allora che tutte sentimentali teniamoci a cussire nel mio cuore non me la sa per carità e questa roba arrivava a Napoli una fatica terribile arrivo a Roma con la 500 Piazza del Popolo parcheggio e ancora col bagaglino e incontro Gabriella Ferri che mi domanda a bruciapello da dove vieni dico da Foggia ma perché perché devo fare andiamo a ballare e mi porta a ballare alla taverna come si chiama Margutta a Via Margutta e lì nasce un 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 anche perché devo dire la verità è stata un un momento una cosa meravigliosa l'amore con Gabriella Ferri allora giovanissima e naturalmente musicale moltissimo perché io le ho insegnato tutte le canzoni del dopoguerra lei mi ha insegnato le canzoni romane ma quelle canzoni del dopoguerra quando lei è stata scritturata da questo locale che si chiamava La Campanella io disse a Gabriella guarda devi fare arriveranno tutti trentenni o quarantenni allora erano vecchi per noi quindi fai le canzoni della loro infanzia vedrai che dire e quindi Zazzar Rosamunda Rosamunda solamente per la città le canzoni del dopoguerra capito che Gabriella se ne impossessò subito e poi sono state il suo patrimonio musicale naturalmente Rosamunda queste canzoni del dopoguerra va bene poi grazie a Dio non abbiamo mai litigato finì così insomma pari per le cose gli altri amori le cose così su quelli che se ne vanno e sul vuoto che lasciano dentro di noi tu hai avuto una storia lunga quasi un decennio con una storia d'amore con con Maria Angela Medato lei disse che per pudore per pigrizia perché forse non se ne sentiva il bisogno nonostante i documenti fossero già pronti non vi siete mai sposati sì sì uno sbaglio uno sbaglio un errore tuo sì sì uno sbaglio giovanile certo grandissimo dolore grandissimo 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 grandissima mancanza quella indubbiamente c'è ma purtroppo mi sono un po' abituato a queste grandissime mancanze perché la mia generazione ahimè tutti i miei amici Gianni Boncompagni Mario Marenco Gigi Proietti insomma solo per dirne quattro però ce ne sono tanti quelli dell'università di Napoli i miei compagni eccetera sono grandi mancanze grandi dolori grandi dolori non sarebbe bello essere immortali Renzo? sì sarebbe bello sarebbe molto bello se fossimo immortali in un'altra dimensione che ne so qualcuno se lo augura e tu ci credi? non lo so io ho avuto dei segnali strani di combinazioni così qualche segnale qualche combinazione così ma sono uno sperante e poi sottosommato la fede mi ha aiutato un po' la fede non capito non la rifiuto so che è una cosa un po' strana però insomma la pratico ancora vuole farti una domanda sommamente indiscreta ma hai paura tu della morte? ci pensi mai? sì ho paura della della differenza e poi perché no della morte di lasciare tutta questa roba gli affetti di cagionare dolore anche alle persone che mi vogliono bene eccetera però è una cosa da accettare da accettare dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories io sono Malcom Pagani la cura editoriale è di Francesca Milano la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli il producer è Alex Peverengo il nostro canale